ciao ragazzi come state venuto con questo nuovo video c'è il vetro con me uno zombie uno zombie che mi sta attaccando attenzione guardate chi è arrivato il bambino senza maschera che ha ammazzato lo zombie che bello e guardate il bambino mascherato guardatelo è morto zombie ma non è ancora morto non è ancora morto guardatelo zombie guardatemi sono lo zombie guardatelo zombie guardatelo guardatemi guardatemi guardati no tuo padre non vuole ciao 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 ci vediamo al prossimo video ciao